Comunque gli artisti è tutta un'altra cosa, gli artisti sono austrieci. Addirittura? Sì, sulle torre gemelle hanno fatto delle cose simili sulle torre gemelle. Le hanno assegnato questa cosa oppure è stata una loro iniziativa? No, no, siccome la società degli impianti hanno anche delle conoscenze in Austria, e lì hanno fatto delle opere, hanno conosciuto. Hanno fatto questa opera così, per portare un po' di gente a vedere. Ma vengono le persone a vederla? Sì, ma la vedi... D'inverno vedi solo un mucchio di neve, invece adesso lo vedi proprio. Perché sul verde e il bianco... Eh, lo vedi proprio. Quindi la strada è tranquilla, è solo in salita, mezz'ora di cammino. Noi abbiamo una scarpa da trekking apposta per andare a traire il coniglio. Dici che stai nella tana, ha detto che non... Ma scende in città qualche volta, non si capisce se scende o no. Il signore ha detto che il percorso è semplice, bisogna seguire... Noi adesso lo illustreremo un po'. Bisognerebbe seguire questo tubo, questo tubo d'acciaio arancione, che poi conduce fino alla strada. Dalla strada poi mezz'oretta fino a quel ripetitore che punta verso il cielo. Senti, ha dato l'immagine alla salita, quindi la inclino della percentuale della salita, che credo che sia intorno al 25%. Io non so perché il gruppo Geltin ha deciso di fare questa cosa... Un posto così lontano. Forse dovremmo scoprirlo noi. È lui! È lui! È lui! Gesù, ripieno di schifezze. Gli occhi. Questa è la bocca. Questa cosa qua, che cos'è? Quello è il cuore. Quello è il cuore, si vede dall'alto. Posso dire una cosa? Sì. Sono molto deluso. Mi hanno fatto delle immagini... delle immagini pirotecniche di questo coniglio. Bene. Interagite col coniglio, ha detto. Con quale forza? Con quali forze dobbiamo interagire col coniglio? Questa è l'ultima acqua che ci rimane. La prossima praticamente è o a monte, al ghiacciaio, oppure giù a valle, sotto, a mondo lì. Quest'acqua adesso noi però abbiamo deciso di non berla noi. Di non berla noi, ma darla a questo povero essere non vivente. Dio mio si muove. Ecco qui, guarda. Mica che performance, eh. Ecco qui, tutto al coniglio, eh. E adesso vivi. Animati adesso. Che dire? Mosche. Mosche. Zecche. Tafani. Tutto. No, io vorrei mandare un messaggio. Quelli che hanno fatto il check in architecture a Ibiza. Werti voi! Werti voi! ... ...